L'invasione di campo è la nuova mostra con una selezione di opere della raccolta del Museo Pecci. L'invasione non è soltanto un modo di entrare in un campo avverso, l'invasione è anche saper cogliere quelli che sono alcuni elementi di campi avversi e credo che in questa fase e in questa mostra gli artisti esposti lo dimostrino, appunto occupandosi, entrando anche con quella che è la grande discrezione e che sempre li contraddistingue all'interno di ambiti diversi, da quello politico a quello sociale, da quello architettonico a quello anche forse più ironico. Chiaramente tutta l'arte contemporanea è stata un'invasione, un'invasione di un campo avverso, quindi è comunque una pratica di stranamento che comunque continua, è presente. Questa è la vera grande regola appunto della nostra contemporaneità, è il modo per cui appunto interveniamo, ma è anche il modo con cui sempre si rinnova e con cui sempre gli artisti continuano a stupirci. Questa è la vera grande regola appunto della nostra contemporaneità,